Si arriva a Greste un'iniziativa in programma sabato 14 maggio organizzata da Col Diretti, di cosa si tratta direttore? Si tratta di un'iniziativa che in verità è organizzata in collaborazione tra noi della Col Diretti, il comune e l'amministrazione comunale e il quartiere in rione di Porta Romana. Facciamo un'iniziativa volta a valorizzare l'agroalimentare del territorio, della Val di Chiana, dove parleremo, c'è un piccolo mercato straordinario, perché la piazza è molto piccola, per cui ci sarà il nostro mercato di campagna amica, ci sarà un workshop all'interno dell'evento con le amministrazioni locali, con le istituzioni locali, nelle quali cercheremo di parlare di cosa serve al nostro settore, al nostro agroalimentare, in un momento anche particolare come quello che ci vede oggi i protagonisti dopo una pandemia che ancora forse non è finita e il problema ovviamente della guerra. Quindi faremo anche questa iniziativa parlando del futuro dell'agricoltura e il pomeriggio facciamo questa sfida tra la giunta del Comune di Castiglione Fiorentino ed alcuni giornalisti che si sfideranno in uno show cooking cercando di trasformare i nostri prodotti nelle cose buone che spero che sappiamo fare. Insomma, vediamo un po' chi vince.